Ciao ragazzi, benvenuti nelle news di Lady Rie. Come state? Tutto bene? Come avete letto dal titolo, oggi vi parlerò della nostra bellissima Katie. Ragazzi, scusatemi, ma oggi a Palermo c'è un traffico bestiale. Vado a chiudere la finestra un attimo, arrivo subito. Intanto ragazzi, vi dico subito che ci sono dei lavori in corso. Sì, praticamente la nostra bellissima Katie sta dipingendo il muro degli studios. E mentre sistema tutto il set, sta registrando un video. Infatti sarà il suo primo video nel canale. Sssssss, ho scutato. Infatti sarà il suo primo video nel canale. Guardate! Troppo bella questa canzone, ragazzi. Finalmente sto finendo di fare il benedettissimo set, ce la sto facendo e sarà il primo video di YouTube sul mio canale e ci vorrò un po' probabilmente per montarlo, anche perché non mancano mai le sfighe, perché giustamente mentre stavo registrando e appennendo tutte le robe, cosa è successo? Non mi ha registrato la clip. Katia respira, respira Katia respira. Vai, dai, su, un po' di energie. Raga, indovinate cosa sto gonfiando, indovinate. Non ci crederete mai, non ci credo nemmeno io, non credo ai miei occhi, ma ho finito il set. Era anche il primo video di YouTube. Il sogno si sta avverando. Mi amo. Comunque raga, non posso farvelo vedere il set, ovviamente, perché è una sorpresa, dovete andarlo a vedere su YouTube. E niente, prima stavo gonfiando un, non ve lo dico, anche quello, andrete a vederlo su YouTube, mi dispiace. Poi vi avviserò quando uscirà più. Con il mega sbattone del set, cucina semplice di spinaci, sedano, crescenza, crostini con il patto di olive e una bella bisteccazza. Quindi buon appetito a tutti raga, buon appetito. La nostra Katie, ragazzi, sta scaricando tutto il materiale che ha registrato nel suo PC. Ma il PC, ragazzi, è lentissimo. Guardate. Ciao raga, come state? Tutto bene? Bene, è da stamattina che sta scaricando tutto il materiale che ho registrato. È un incubo. Ci sta mettendo una vita, una vita, ci sta mettendo. Comunque, ce la farò. Ce la farò perché io non mi arrendo mai. Mai. Tiziana, hai capito? Mai. Ragazzi, Katie sta iniziando ad editare il suo video. Volete vedere come inizia il video? Guardate. Non ditelo a nessuno. Guardate, guardate. Comunque raga, sto montando il video. E non è ancora tutto perché è un botto di file. Un botto, un bot, un bot, un bot, un botto di file. Bella raga, sono tornata su YouTube. Basta. Basta. Non mi faccio vedere più niente. Aiuto, aiutatemi. A Katie stamattina, proprio stamattina, le è arrivato un pacco. All'interno c'era una bellissima poltrona rosa, che era quella che voleva lei. E se l'è montata tutta da sola. Guardate. No vabbè, no vabbè, no vabbè raga, un altro regalo è... È arrivato un altro... Sì, regalo col cavolo, le ho pagate tutte queste cose. Col cavolo che sono regali. Però devo scartarlo subito. Chissà che cos'è, chissà che cos'è. Indovinate, indovinate. Ebbene, sì ragazzi, avete indovinato. È arrivata la mia poltroncina rosa, tutta rosa. Adesso devo montare, che culo, che culo. Ce la faranno i nostri eroi? Cioè io. Ok, prima che pensiate che sia qualcun altro a montare la poltrona, in realtà sono io, sono io, sono io, sono anche capace di montare cose. Magari ci metto 50 anni come verniciare una parete, però prima o poi ce la faccio. E lei, quella che ce l'ha fatta a montare la sua seggiolina. Guardate che bella che è. Carina, no? Tutta rosa, come il cellulare. Mi piace. E il mio sederino adesso sarà bello comodo. Ragazzi, ci siamo. Katie sta per finire di editare il suo primo video su YouTube. Quindi ragazzi, tra poco uscirà il suo primo video. Lo so, lo so ragazzi. Voi non mi credete mai. Non ci credete? Guardate. Non fa parkour, io ero mai. Non fa parkour, la sveglia. La sveglia. Teo. No. No. Dobbiamo proteggerci tutti. Io ragazzi, giorni fa, ho chiesto a Katie se mi diceva il nome del canale, e non mi ha risposto. Oggi, ragazzi, le ho chiesto se mi poteva dire il giorno che usciva il suo primo video, ma ancora non ha visualizzato il messaggio. Mi dispiace, ragazzi, che non posso darvi queste due notizie, ma comunque, se lei mi risponde, io vi manderò subito la foto nella community. Ve lo faccio sapere, tranquilli. Quindi, ragazzi, iscrivetevi e attivate la campanellina, così quando metterò la foto nella community vi arriva la notizia e saprete quando sarà il giorno che uscirà il video di Katie. Sempre se mi risponde. È giunta, ragazzi, l'ora dei saluti! Siete tantissimi, ragazzi. Ecco qui il mio quadernino. Allora, facciamo questi bellissimi saluti che è da tanto che non li facciamo, perché ho fatto sempre video lunghissimi, e altrimenti non finivano più questi video. Allora, inizio a salutare a Marco o Maxi Brego. Ciao! Un bacio! Poi saluto ad Alessia, Clarissa e Ilari. Ciao! Un bacino, ragazze! Poi saluto ad Alice. Ciao, Alice! Poi saluto a Alessandro e Francesco. Un bacio! Poi saluto ad Alessio. Un bacio! Poi saluto a Sara Love. Ciao, amore! Un bacino! Poi saluto a Raffaele, Giulia e Martina. Un bacio, ragazze! Poi saluto a Claudia, Noemi, Giorgio e Mattia. Buona guarigione, ragazzi! Un bacino! Poi saluto ad Andrea, Giuseppe e Alice. Un bacino a tutti e tre! E poi saluto a Elisa Bianco. Un bacio, Elisa! Se volete essere salutati, mi raccomando, ragazzi, scrivetelo giù nei commenti e io vi saluterò nel prossimo video. Ok, ragazzi! Ci vediamo nel prossimo video e ricordatevi che vi voglio tanto bene. I love you!